Tutti i nostri eventi sono pubblici e verrà pubblicato sul canale di YouTube, quindi se volete togliere la webcam anche per risparmiare banda o per non comparire, up to you. Riccardo, allora possiamo partire? Grazie a tutti, benvenuti. Oggi quindi, scusate, eccolo qua, parliamo del progetto di innovazione, insieme a CSMT è presente il fondatore di Bicom e Smartop Alfredo Rabaiotti e il delegato del rettore al placement, la professoressa Sansoni, introduce il nostro presidente Riccardo Tricchilo e il di Next Hub, Marco Libretti. Prego Riccardo. Grazie Andrea, benvenuti a tutti, buonasera, è un piacere, anche perché eventi come questo sono sicuramente coerenti con la missione del CSMT, il polo tecnologico di Brescia, che come sua Costituzione è una realtà unica sul territorio, proprio sia nella sua Costituzione, nel senso che la presenza, nello stesso stabile, di istituzioni come l'Università, CNR, l'Enea, come pure tante spin-off universitarie o industriali e soprattutto start-up, no, ne fanno una realtà indubbiamente unica per l'area in questo territorio. Ma soprattutto nello spirito, quello che ci muove è quello di favorire l'innovazione e l'innovazione sostenibile, sostenibile nel senso pieno del termine, no, nel senso globale, nel senso della sostenibilità economica, ambientale e sociale. E in tutto questo che chiaramente sentiamo proprio la responsabilità che condividiamo insieme all'Università, insieme a Index Hub, insieme ai nostri partner, tra cui appunto anche Bicom, che collabora con noi, di poter essere, no, sentiamo la responsabilità di fare svolgere un po' il ruolo della campana che suona, no, il campanile dell'innovazione e che quindi dice al territorio, guardate che è tempo ormai, no, di poter intraprendere strade nuove, strade diverse, ce lo dicono in tutti, ormai, devo dire, vengono dette anche a livello governativo, ma poi nel pratico dobbiamo atterrare, nel pratico dobbiamo, ognuno di noi, provare come mettere a terra queste nostre idee e queste nostre, diciamo, suggerimenti, proposizioni di cambiamento. E nello stesso tempo riuscire quindi a essere, promuovere il cambiamento, promuovere l'implementazione del digitale e nello stesso tempo riuscire a favorire l'inserimento anche dei giovani, far sì che i giovani, i giovani laureati riescono a trovare appeal in questo territorio e trovare una soddisfazione tale che non pensano nemmeno all'idea, come dicevamo prima, di poter fuggire all'estero e portare all'estero i loro valori e i loro cervelli. E un indotto industriale grosso come quello bresciano non ha o non dovrebbe avere problemi in tal senso. Sta a noi riuscire a far sì che tutte queste condizioni vengano armonizzate e messe a fattore comune in modo tale che troviamo la soluzione giusta. Oggi io credo che siamo a proporvi un'idea particolare, un'idea sicuramente in linea con il titolo di innovazione, in modo tale da poter quindi da un lato favorire, come dicevo, il cambiamento in azienda, l'area di miglioramento, l'introduzione del digitale ormai da tempo avviato con il progetto Industry 4.0, ma e soprattutto riuscire a trovare anche un modo con cui i giovani possono essere ad esempio agganciati, coinvolti, intrigati, dico intrigati, proprio perché è importante provare anche, riuscire a emozionare, riuscire a coinvolgere il giovane che alla fine magari di un progetto di innovazione si trova formato. Quindi da questo punto di vista abbiamo le imprese che avrebbero con il nostro supporto la possibilità di poter quindi svolgere un progetto di innovazione, nostro intendo Bicom, CSMT, che può promuovere un progetto di innovazione, il progetto viene portato a termine e nello stesso tempo alla fine si trovano un giovane formato, un giovane istruito. Allora questo è il sogno che però è assolutamente realizzabile, Alfredo dopo lo spiegherà ancora meglio, però io dico che tutto questo ha una valenza di responsabilità che ci fa sentire quindi onorati di farne parte e a questo punto lasciatemi dire anche una cosa, io credo che l'impresa, l'impresa che sente in sé la responsabilità sociale di fare impresa e pensa quindi che possa essere di fatto il motore di sviluppo del benessere per il territorio che l'accoglie, se sente dentro di sé questa molla, ha mosso sicuramente, l'azienda è mossa del desiderio, sicuramente di fare qualcosa per diciamo vantaggiosa per sé stessa ma sicuramente anche per il fatto che nel fare questo lo fa anche per il territorio stesso. Per certi versi quindi io ho un'idea, l'idea è che l'impresa che sente questo per certi versi anche lei è una istituzione, proprio perché ha e può avere questa valenza diciamo quindi sul territorio sociale che va a vantaggio di tutti, in primis di lei e di poter avere il vantaggio di poter quindi essere supportata da realtà come la nostra, come l'università, come i Nexab, come Bigom e nello stesso tempo riuscire quindi a riuscire ad attrarre, ad incrementare la pilla di questo tessuto industriale che a quel punto diventa una palestra straordinaria di attrattiva per i nostri giovani e per il loro futuro. Grazie a te. Grazie Riccardo. Marco, prego. Grazie mille Andrea. Parto con ringraziare sia Cessi Ambienti che Bigom per questa opportunità che tratta un tema che sta a cuore ai Nexab, che è un'iniziativa natale 2017 da appunto il mondo imprenditoriale senza distinzione di categoria, di dimensione, quindi avendo artigiani, industriali, agricoltori, costruttori, con quale fine? Con appunto il fine di promuovere il digitale, sensibilizzare il territorio, far sì che l'innovazione digitale possa essere una delle opportunità che le nostre aziende hanno per continuare a rimanere competitive e per fare ciò chiaramente una componente fondamentale è sicuramente quella delle risorse umane. Risorse umane che per esperienza, perché ho avuto modo di confrontarmi più volte con aziende sia del settore industriale ma anche del mondo artigiano, divengono forse l'elemento centrale in qualsiasi progetto di innovazione. Avere persone che siano tecnicamente, tecnologicamente e organizzativamente preparate rende l'implementazione di progetti complessi come quella di innovazione digitale, più facile. Chiaramente non è sempre facile avere le risorse che siano totalmente committate, come si diceva in inglese, alla causa e quindi bisognerà saper gestire anzitutto le persone, impostare dei processi efficaci, far sì che dove le persone non abbiano le competenze queste possano essere in qualche maniera o supportate da nuove competenze acquisite anche all'esterno, oppure possono essere formate adeguatamente per rispondere alle sfide che l'innovazione digitale pone, quindi quello che mi sento di dire rispetto anche al progetto innovazione è che mi fa piacere vedere che degli attori del territorio locale si siano attivati per il territorio locale per far sì che appunto l'innovazione digitale non rimanga distante, magari un po' vista come lo spazio, ma trovi poi traduzione in progetti concreti per le imprese, che poi credo sia l'unico modo per far sì che il nostro tessuto impermitoriale possa appunto rimanere competitivo, approfittare delle possibilità che attualmente ci sono e che si stanno creando per il futuro e appunto come dicevano prima per far sì che le nostre imprese siano già preparate magari anche a un futuro che ad oggi non si conosce, per agirci, per fare da precursori e non da follower, mi chiamala così. Quindi io non vado oltre, ringrazio ovviamente Travaiotti, Afredo e Tichilo appunto Riccardo per questa opportunità e lascio la parola ad Andrea a questo punto se non ricordo male, giusto? Sì, grazie Marco. Allora intanto che cambio lo sfondo, direi una nota tecnica. Noi adesso vi proponiamo, parto io con un'introduzione della nostra visione dell'innovazione digitale con un'introduzione metodologica, poi andremo a concentrarci più appunto sulla parte umana. Direi che Mari per fare ordine, le domande possiamo dedicare uno spazio alla fine per le domande, ma intanto se qualcuno vuole appuntarle nella chat, basta attivare il fumetto qua sopra, digitare la domanda e poi noi ce le guardiamo o durante e vediamo di potervi rispondere. Allora adesso proietto anch'io. Ok, dovreste vedere, confermatemi. Il brutto è che quando vai a proiettare poi perdi il contatto umano, nel contatto con le persone. Alfredo si vede? Qualcuno me lo dica? Sì, sì, si vede. Ok, perfetto, grazie mille. Quindi adesso vorrei, mi tolgo poco tempo, un assunto della nostra riformulazione di progetti di innovazione digitale con questa iniziativa che abbiamo chiamato Digital Acceleration che nel nostro panel di attività si colloca come progetto che noi definiamo Halo, quindi un progetto alto, un progetto di ampio respiro e per quanto riguarda proprio l'innovazione digitale in realtà un'infrastruttura, una piattaforma dalla quale possono partire progetti per aziende di qualsiasi dimensione e qualsiasi dimensione anche di progetto, quindi anche progetti di adeguamento tecnologico a livello di infrastruttura fino ad arrivare al modello di business, quindi anche progetti di alcuni mesi rilevanti, molto rilevanti dal punto di vista dell'attività e dell'effort. Quindi noi abbiamo introdotto questa metafora della Spiral Roadmap già alcuni anni fa, l'abbiamo riformulata appunto quest'anno e vuole essere, diciamo, una visualizzazione del percorso che l'introduzione della digitalizzazione può suggerire alle aziende, quindi partendo dall'infrastruttura dove magari un progetto digitale tratta del mero adeguamento, adesso siamo ancora freschi delle varie anche implementazioni supportate da incentivi finanziari e fiscali dell'industria 4.0 che vanno ad aggiornare gli strumenti perché anche il digitale, soprattutto il digitale diventa vecchio in poco tempo, che sono un fattore abilitante verso l'efficienza dei processi aziendali, industriali, quindi processi sia produttivi sia legati comunque all'operation, ma anche processi di ufficio, quindi materiali che fanno riferimento comunque alla sfera aziendale. Ma se il digitale va oltre la fabbrica e dove serve, ovviamente non può essere implementato a 360 gradi su tutti i prodotti, ma dove il digitale fermia i prodotti, il prodotto diventa anch'esso digitale e arricchisce di funzionalità e di abilitazioni quindi il prodotto stesso per cui è facile e automatico stabilire una nuova relazione col cliente. Se ho il prodotto che parla con il produttore e trasmette dati ovviamente dietro al consenso del cliente su come viene utilizzato o su certi comportamenti di utilizzo del cliente, se la relazione, il modello di CRM che ha il produttore, che ha già mai ridigitalizzato la fabbrica con il proprio cliente è molto diverso, si parla anche in letteratura di intimità col cliente che il fattore digitale appunto abilita. E se questo poi viene sposato dalle linee direzionali potrà mutarsi anche in un business model diverso, evoluto o nuovo verso la servitizzazione, cioè verso non vendere, erogare prodotti o servizi in modo classico, ma anche servizi nuovi che per l'azienda stessa sono anche puramente delle linee di ricavo future che non erano possibili prima, ma che chiudono il cerchio col cliente per cui la trasmissione del valore di una qualsiasi azienda percorrendo appunto questo spiral all map diventa molto più ricca di prima e appunto il valore trasmesso è molto più accentuato, più visibile di prima. Noi come CSMT abbiamo messo a punto tre programmi per soddisfare il percorso evolutivo che vi dicevo poc'anzi, uno è già noto, l'abbiamo già lanciato più di un anno fa, il Factory Maps, che poi vi spiego bene, quindi la digitalizzazione applicata soprattutto alla fabbrica di prodotti tangibili, il co-creation program è più un workshop metodologico volto a capire come il digitale possa far evolvere il modello di business verso 9 linee di ricavo, ma soprattutto del tema di oggi, la parte di change management e people development platform che racchiude tutte quelle competenze che noi come CSMT, ma soprattutto con la rete dei nostri partner, proponiamo nello svolgere progetti di innovazione digitale, in quanto comunque si parla di informatica, si parla di macchine, di reparti, di azioni col cliente, ma sto dicendo una cosa ovvia, ma mi compete, dietro abbiamo sempre le persone, per cui se le persone non seguono, non sposano gli obiettivi, non sono d'accordo ancora oggi, ci sentiamo a dire che il digitale potrebbe, o diciamo l'automazione in generale, portare via posti di lavoro in realtà, la storia ci ha insegnato che ne crea, creabilità e lavori più ricchi, professioni nuove, chiaramente non ci sono, per cui più forti di prima, in modo più studiato di prima, insieme a Bicom, insieme all'Università di Brescia, vogliamo proporre una strategia di crescita delle persone al territorio per supportare i progetti di innovazione stessi, poi mi spiego meglio. Quindi adesso, giusto uno sguardo al Factory Maps che probabilmente molti di voi conoscono, in analogia con quello che ha fatto Google, si è venuto in mente di creare questo ingresso del Google Maps, però applicato alla fabbrica, e come avviene questo? Ovviamente si parte dal campo, dalle macchine, dai reparti, dalle operations, luogo dove i materiali si spostano tipicamente, e attraverso la connessione dei macchinari in modo classico, anche in modo innovativo, con esempio il protocollo di LoRaWAN, di A2A, che è un protocollo a bassa energia che consente di trasmettere alcune informazioni poche ma a lunga distanza ed è poco costoso, e ovviamente questo sempre in accompagnamento con la conoscenza umana, estrarre dai dati con quanta intelligenza artificiale serve, quindi con l'algoritmo magari semplice di elaborazione di un grafico, fino a qualcosa di più elaborato, estrarre delle informazioni che ci consentono di formalizzare la conoscenza a partire dal reparto. Se poi aggiungiamo volendo ancora un po' di intelligenza artificiale possiamo estrarre della vera e propria conoscenza, possiamo imparare dalle macchine, le macchine hanno tanto da dirci, l'abbiamo detto anche in webinar passati, è che sono macchine quindi sono oggetti che servono a noi per produrre e tipicamente non li osserviamo, comunque l'osservazione diretta richiederebbe molto tempo, però oggi la tecnologia ci abilita a collezionare una molle di dati che opportunamente elaborata ci fa imparare dalla macchina stessa, parlo ad esempio di manutenzione predittiva e di tutte le belle cose che si possono fare col 4.0. Questo cosa abilita a fare? Abilita a un'azienda dall'essere in ritardo, vent'anni fa si parlava già di MES, ma l'epilogo probabilmente della produzione veniva fatto il sabato mattina, gli scarti erano già avvenuti, i fermi erano già avvenuti, per cui il meglio che si potesse fare era recuperare i dati e fare un'analisi a consuntivo e pianificare delle azioni di miglioramento future. Oggi in tempo reale si riesce con l'intelligenza artificiale, quindi con uno schedulatore, con un algoritmo predittivo che mi può indicare al responsabile di manutenzione che ora di intervenire oppure se retroazionato proprio sulla macchina, se la macchina è allestita per fare questo, è la macchina che si autoregola per cui previene lo scarto, si ferma, si autoregola prima di far avvenire l'evento negativo che impatta male sulla produttività. Per cui ogni azienda, dicevo prima, i progetti che possiamo fare insieme alle aziende sono per ogni tipo di azienda, ci sono progetti che partono più verso la parte in basso a sinistra, in alcune aziende che hanno già digitalizzato si può sempre, ovviamente si va sempre avanti, essere più sulla parte verso quello che noi abbiamo formalizzato come lo Smart Play, che non è un punto di arrivo, è come se fosse un asintoto o l'orizzonte, l'orizzonte non lo raggiungi mai ma basta che lo vedi e lo prosegui e ottieni il miglioramento in modo continuativo. Nella piattaforma del Factory Maps abbiamo incrociato tre aspetti, un aspetto delle tecnologie per cui CSMT insieme ai suoi partner ha già gli strumenti o preconfezionati o confezionabili per rispondere diciamo a qualsiasi o pressoché qualsiasi esigenza di digitalizzazione dell'azienda, quindi si passa dalla cyber security al MES, la raccolta dati, alla digitalizzazione di processo che è l'argomento per cui oggi siamo qui a parlare insieme fino ad arrivare anche alla ritorazione, quindi anche qualcosa di hardware in cui la macchina in autocoscienza, in autoconsapevolezza si autoregola per prevenire degli eventi che vogliamo evitare. Si applica nel ramo dell'attività a qualsiasi area dell'azienda e anche a livello strategico partire dal prodotto fino al modello di business e otteniamo appunto questo cubo, questo volume che se volete è un menu, una mappa anche per andare a definire qual è la priorità dei vari interventi per cui la digitalizzazione di processo potrebbe coinvolgere lo sviluppo prodotto o la logistica fisica o la manutenzione a livello di reparto, quindi a livello processi di organizzazione fino ad arrivare al modello di business. In questo modo abbiamo l'ambizione di poter coprire un caso qualsiasi che voi ci potete porre. Per quanto riguarda il co-creation program, come sempre CSMT ha fatto, ma appunto oggi lo riaffermiamo in modo più strutturato e più forte, CSMT lavora in rete. Come istituzione emanata da azionisti che sono espressione dell'università, gli enti pubblici come la Camera di Commercio, dal Comune, la provincia di Brescia, unitamente al mondo industriale, in primis la Confindustria di Brescia e i Nexab, che è con noi oggi, si comporta da business facilitator, quindi da facilitatore di business model, per cui noi abbiamo competenze, alcune le abbiamo internamente, ma la competenza che ci contraddistingue è questo know-how di sistema, di visione ampia della supply chain, di conoscitori di tecnologie, nonché anche la nostra seconda anima di conoscenza, know-how diretto sul reperimento di strumenti agevolativi, finanziari, possono in qualche modo calmirare il costo pur e semplice del progetto di innovazione, insieme a un enable tecnologico oggi facciamo questo webinar con Bicom, quindi qualcuno che più di noi detiene la tecnologia, la struttura produttiva e il sviluppo continuo della tecnologia, insieme al destinatario del nostro intervento del progetto digitale, che noi chiamiamo l'implementatore del business model e qualche volta riusciamo anche a coinvolgere il suo cliente, quindi il destinatario finale del modello, riusciamo con una metodologia strutturata che non vi commenterei per brevità oggi, poi negli altri troverete questa presentazione anche con qualche slide che la arricchisce, quindi con una metodologia strutturata in formato di workshop, insieme ai direttori, ai titolari e al management aziendale, riusciamo in alcune sessioni a mappare il modello business attuale e a valutare in che modo la digitalizzazione possa introdurre una nuova value proposition da implementare magari in successivi progetti di innovazione digitale. Veniamo allora alla parte di oggi, quindi quella che riguarda specificamente le persone, anche qui abbiamo pensato a una modularità, per cui abbiamo ristrutturato l'offerta che accompagna la crescita delle persone ai progetti di innovazione, partiamo dalle visite aziendali che abbiamo sempre promosso e fatto, oppure ai laboratori qua che ospitiamo dell'università, per cui andiamo a facilitare nel corso di incontri l'incontro, la contaminazione positiva tra aziende che hanno già fatto un certo tipo di esperienze, hanno già risolto alcuni dubbi in qualche modo, per cui riusciamo a coinvolgere aziende che hanno voglia di innovare nei progetti che possono condurre insieme a noi, anche in imitazione di percorsi che già altre aziende hanno fatto. I seminari, la formazione specialistica, pur non facendo formazione in modo forte, lo facciamo come accompagnamento appunto a quello che noi chiamiamo il trasferimento tecnologico, quindi un certo tipo di formazione operativa che comunque noi come missione facciamo e dobbiamo fare, siamo stati creati per fare questo, e arrivare attraverso l'upskilling o anche il coaching individuale di gruppo, andiamo a, che è poi l'argomento, il sotto argomento principe di oggi, a supportare gli imprenditori, a reperire nuovo personale, a supporto dei progetti che si vogliono avviare o che sono già avviati. Tra i fattori che ostacolano, che inibiscono, comunque in qualche modo danno fastidio, anche perché poi è anche di questo che parliamo, nei progetti di innovazione, per loro natura essendo cose nuove, introducendo processi nuovi o magari anche mansioni nuove, se l'azienda viene dal passato, probabilmente non ha un destinatario o non ha un project manager all'interno per portare avanti questa cosa nuova. E molto spesso i progetti vanno più lenti del dovuto o qualche volta si bloccano, perché il tempo comunque più di 24 ore al giorno non abbiamo, siamo persone, per cui ci chiedono, ma non conosci qualcuno che possa essere inserito, che abbia voglia di imparare, mi supporta nel progetto di innovazione e poi magari lo assumo e gli faccio ricoprire una funzione nuova che è proprio lo spin off, emanazione del risultato dell'innovazione. Per cui oggi il progetto specificamente innovazione riguarda il reperimento di nuovo personale a supporto appunto dei progetti che possiamo condurre insieme. e anche qua, in forma, vedete un po' anche qua l'impronta ingegneristica, noi ci sentiamo sicuri e ci piace e pensiamo di essere più chiari proponendo le cose a step, quindi abbiamo una fase di progetto, insieme all'azienda, insieme all'imprenditore, come classicamente avviene, il progetto deve essere chiaro, quindi ha degli obiettivi, avrà delle attività che hanno un sviluppo temporale, con dei deliverable, con delle milestone in cui si vanno a consegnare di risultati tangibili come ad esempio l'implementazione di un'infrastruttura digitale oppure intangibili come il trasferimento di competenze e si ha sotto qui anche un piano temporale. Insieme si va, avendo chiaro il progetto, si hanno chiari anche qual è le competenze richieste, il percorso e le attività che i nuovi candidati si possono fare, quindi poi insieme all'imprenditore si fa una sessione insieme, si valutano i candidati per poi essere inseriti e avviarsi e abilitare appunto il progetto di innovazione. E diciamo questo lo facciamo come CSMT con Becom e con l'aiuto dell'Università di Brescia che come ufficio placement da molto tempo si occupa di mettere in comunicazione l'offerta e la domanda di competenze e di mettere in evidenza i giovani talenti della nostra Università di Brescia per traghettarli verso il mondo di lavoro. Quindi noi siamo proprio in mezzo, una volta c'era la metafora di CSMT come ponte tra università e aziende e ancora così in questo senso, facilitando giovani che si sono appena laureati o stanno ancora finendo il percorso di studi verso il mondo del lavoro, quindi diamo servizio anche loro ma diamo servizio anche alle aziende che con un canale diverso e diciamo in qualche modo privilegiato parlando con l'Università di Brescia vanno a valutare competenze future e riescono a crescere e a fare appunto innovazione a beneficio appunto del territorio stesso. Io con questo ho finito, spero di essere abbastanza stato nei tempi. Alfredo ti cedo la parola, prosegui tu intanto controllo se c'è qualche domanda in chat, non mi pare. Hai il microfono spento. Alfredo, Alfredo, non ti sentiamo. Devi accendere il microfono. Ti chiedevo di entrare nella slide di innovazione perché volevo fare due piccoli annessi. Grazie. Ah, non ho proiettato, chiedo scusa. L'ho fatto a partire ma avevo... Intanto che proietti, allora prima di tutto è doveroso ringraziare Riccardo Trichilo, il CSMT, la dottoressa Sansoni e naturalmente anche dottor Libretti dell'Inex Hub perché le belle idee rimangono idee se poi non c'è qualcuno che le fa. Quindi veramente parola d'ordine, gratitudine. Allora, non voglio aggiungere altro perché Andrea l'ha già spiegato molto bene, però il progetto innovazione non è un'idea nostra, è un'esigenza che ci è stata posta. Perché tutti i begli argomenti di cui Andrea ha parlato sono tutti eccezionali però quando entri in un'azienda che in questo momento sta facendo una transizione di carattere non solo tecnologico perché la tecnologia arriva dopo, ma una transizione da un punto di vista paradigmatico cioè quindi sta cambiando il paradigma e quindi di conseguenza l'imprenditore, dicevamo appunto prima cioè l'imprenditore lungimirante è colui che ha la consapevolezza che quello che farà lo dovrà dare alle generazioni future quindi di conseguenza abbiamo detto ma queste cose chi le fa? Dall'altra parte abbiamo questi giovani che giustamente non si accontentano più di rispondere a delle job description che dicono cerchiamo operatore ufficio tecnico, no, i ragazzi oggi visto anche nel periodo di assoluta indecisione in cui viviamo hanno bisogno di porsi di fronte ad un futuro che quantomeno li permette di investire bene quello che hanno imparato e quindi è doveroso per noi piccoli, medi, imprenditori, grandi, io sono un micrissimo imprenditore cioè porli di fronte ad una strada che permette di dirgli ah, ma bene, ma allora io così potrò costruirmi un futuro, sì, benissimo e questo futuro dipenderà da me, sì quindi l'esempio pratico, giusto per tramutare in esempio questo tipo di attività è che noi comunque abbiamo l'idea di creare un club di ragazzi che hanno voglia di dire vogliamo conoscere le aziende vresciane noi nelle aziende ci siamo già in queste aziende abbiamo e stiamo sviluppando dei progetti queste aziende hanno già bisogno di persone in gamba ma a fronte di questo parliamo già con aziende e con imprenditori che hanno una mission e una vision chiara e hanno già sviluppato con noi delle milestone molto chiare che permettono di dire ok, io parto da qua, voglio arrivare qui e con queste modalità e, 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 e quindi condivisione del progetto e anche far conoscere l'imprenditore e l'imprenditore sarà lui a coinvolgere i ragazzi a dire ragazzi, cioè questo è quello che io voglio fare poi ovviamente lo aiutiamo noi però si espone ed espone lui e la sua azienda si fa tra virgolette padre di famiglia a quel punto lì si determina bene qual è il percorso e quindi si spiega bene ai ragazzi qual è il percorso questi ragazzi entrano all'interno di un progetto dove ci sono KPI, logiche, formazione on the job costante quindi imparano, mettono a frutto quello che hanno imparato ma dall'altra parte imparano anche a calarsi nel mondo del lavoro in maniera molto pratica e pragmatica come siamo noi bresciani da lì poi che cosa succede? che si valutano i KPI, si valuta anche giustamente i KPI che il ragazzo si è posto quindi cerchiamo di parlare sempre a doppia mandata e quindi valutazione, inserimento a quel punto lì se il gol arriva, se il progetto è andato a termine e se questo ragazzo ha creato il suo primo mattoncino di futuro ecco grazie, volevo fare questa precisazione grazie, giusto doveroso allora innanzitutto noi di che cosa parliamo? allora di digitalizzazione oggi ma io cercherò di fare una cosa veramente molto ristretta però io posso dire che nell'arco degli ultimi 5 anni in collaborazione col CSMT abbiamo sviluppato un'attività che io personalmente ho visitato circa 300 imprese in maniera totalmente gratuita con l'obiettivo di capire cosa stava succedendo all'interno di questa azienda ovviamente di che cosa potevano aver bisogno per poter calare poi quelle che erano poi le nostre capacità i nostri talenti il risultato che cos'è? che ovviamente abbiamo capito tra le varie cose e non sto qui a tediarvi però la cosa più importante è che se da un punto di vista produttivo più o meno queste aziende hanno raggiunto uno stato di efficienza direi quantomeno accettabile dal punto di vista relazionale e quindi ciò che determina relazione che cosa vuol dire? dal commerciale all'ufficio tecnico alla produzione è coronato per la maggior parte delle volte da io pensavo che ero convinto che non so il commerciale dice sì il tecnico dice no e chi sta in mezzo dice ma cioè e allora da lì che cosa abbiamo iniziato a a muoverci e dire ok ma allora che cosa manca? e ci siamo resi conto che probabilmente siamo dei bravissimi produttori ma siamo dei pessimi comunicatori prima di tutto con noi stessi da lì è nata un po' allora mi sono messo e ho sviluppato insieme ai miei colleghi questo metodo e l'abbiamo chiamato il metodo impresa di valore cioè l'impresa che genera valore adesso cercherò di essere veloce poi ovviamente si potrà approfondire in ogni sede allora un'impresa che genera valore una impresa genera valore quando la sua marginalità è il prodotto di uno staff competente quanto confidente nell'applicare un metodo di lavoro efficace e condiviso quindi già questo annesso permette di dire ok chiaro penso che non ci siano commenti su questi se avete commenti ovviamente vi chiedo di metterli in chat poi ne parliamo noi abbiamo quattro colonne portanti che sono se non è scritto non esiste basta le cose dette la macchinetta del caffè basta io ti avevo detto che non possono esserci domande prive di risposta questo che cosa vuol dire a me piace tantissimo questo ormai è diventato un tormentone soprattutto per la mia compagna la parola responsabilità che responsabilità significa solo una cosa abilità a dare risposte cioè se io ricopro un'area all'interno dell'azienda si può dire anche quindi come essere umano se non so dare risposta non posso considerarmi responsabile questo che cosa significa che non è che devo essere onnisciente dall'altra parte che cosa succede che già dare una risposta e dire non lo so mi informo è già una risposta ma il concetto per quando me lo dai buco nero per quando lo fai buco nero cioè no ok tutta una scadenza quindi per quando me lo dai non esiste organizzazione senza condivisione perché da lì abbiamo visto che al 90% i casini sono proprio lì andiamo avanti allora il metodo di lavoro efficace e condiviso si parte dalla relazione che è interna aree aziendali singole e responsabili ed esterna cliente collaboratori fornitori consulenti l'efficacia della relazione si misura nel modo in cui tutti gli attori interni ed esterni sono aggiornati sull'andimento di ciò che si sta facendo questo è fondamentale perché la maggior parte dei problemi e delle inefficienze e dei cali di marginalità all'interno di queste quasi ma mi sa che siamo anche oltre 300 aziende valutate o meglio che abbiamo incontrato arrivano da informazioni che non passano e quindi c'è lo staff magari in aree diverse che stanno facendo le stesse cose con la differenza che stanno facendo un lavoro che è già stato rettificato ad un'altra area ma quest'area nello specifico non lo sapeva detto questo che cosa succede che ovviamente allora abbiamo individuato cioè se parliamo di metodo di lavoro abbiamo detto ok partiamo da cerchiamo di dividere in due quello che normalmente avviene è quello che dovrebbe essere quindi non codificato tutta la relazione interna ed esterna tramite mail telefono cartaceo noi abbiamo valutato che il 30% di ogni operatore in azienda di media a volte anche il 70% cioè lo passa a convogliare le email quindi vuol dire che siamo segretari di noi stessi questo è provate a immaginarvi quando io magari pago un tecnico netti 2000-2500 euro al mese toglieteli il 30% poi vabbè governo ladro ma probabilmente c'è anche dietro qualcosina a livello di inefficienza poi non esistono tracciati o strumenti che determinano chi deve fare cosa e cosa deve fare il personale quindi non esistono tracciati ah ma io ho il tracciato della qualità ditemi che qualcuno che senza peccato scagli la prima pietra se qualcuno una volta fatta la qualità la dimentico perché la devo semplificare perché se io dovesse utilizzare la qualità è esattamente come andare a fare la patente in comune adesso sono anche bravi perché la puoi fare anche online però sappiamo dove stiamo andando ok non è possibile monitorare le attività e il carico di lavoro perché tutti fanno tutto noi abbiamo analizzato aziende anche molto strutturate dove ti rendi conto e dire ma perché stai facendo questo è perché se non lo faccio io non lo fa nessuno eh il metodo di lavoro viene impresso per esperienza diretta e non per processo di formazione cioè affianco lì una persona peccato che mi ha notato anche un'altra cosa che se io affianco una persona ad un'altra con più esperienza quella persona fa anche degli errori e quegli errori li passa alla persona che ha di fianco e quindi diventa un po' come per i vasi comunicanti che i piccoli errori diventano poi dei grandi errori perché ovviamente siamo esseri umani ognuno ci mette del suo l'evoluzione del processo è limitato dalla saturazione dello staff cioè che cosa significa che se io faccio otto ore in cui non ho neanche tempo di andare in bagno quindi mi devo tenere il pitale di lato non ho tempo di fare quello che si chiama retrospective guardare nello specchietto retrovisore e dire ma scusa un attimo ma perché quindi la classica ma scusa ma non ti rendi conto che questa è problematica sì ma non ho tempo per cambiare abbiamo sempre fatto così quindi abbiamo detto bene ma allora questo come può essere cambiato benissimo allora tutta la relazione interna ed esterna deve transitare in un unico contesto quindi creare un dossier di attività che si raggruppa sotto conversazioni dossier attività e comunicazioni qualcuno già di voi dirà bene ma dopo come si fa questo poi ci arriviamo perché va detto tutto bene ci sta raccontando la fiaba Alfredo tutte le attività seguono un flusso codificato e condiviso nel quale vengono coinvolti solo gli attori necessari il mettere per conoscenza penso che sia la maledizione della maggior parte delle imprese ho perso l'informazione perché non mi hai detto per conoscenza no ci devono essere dei diritti per cui determinati membri dello staff quelle cose le devono vedere punto e basta le attività vengono attribuite in funzione dei ruoli valutando costantemente il livello di competenza perché un'altra cosa che si dice è che le persone più sature sono quelle più brave peccato che quelle più brave dopo un po' si stancano e vanno da un'altra parte quindi tutte le attività sono monitorate e suddivise in modo sostenibile devo capire chi ha bisogno di essere come applicando il metodo alle attività verifico quindi il punto dopo chi ha bisogno di formazione e quindi io devo avere se io ho 5 persone in un'area aziendale non posso averne 3 così e 2 che fanno le fiamme perché altrimenti c'è qualcosa che non va non è giusto per chi fa le fiamme non è giusto per gli altri perché poi tra virgolette è anche un peccato capitale quindi la cidia l'evoluzione è costante perché vengono automaticamente monitorati i processi senza occupare tempo extra lo staff quindi ci deve essere una modalità per le quali io non devo tra virgolette fare delle attività in più per capire che cosa sta facendo il mio staff ma devo avere degli strumenti che mi permettono questo questo che cosa significa che un metodo di lavoro efficace condiviso porta se noi effettuiamo tutto ciò che abbiamo visto nel codificato valorizzare il patrimonio umano comprendere le performance dei singoli in ogni area e di tutta l'impresa favorire una crescita basata sui bisogni documentati e così da comprendere anche l'efficacia di ciò che stiamo facendo in termini di prodotti o servizi dipende cosa fa l'azienda questo che cosa vuol dire consapevolezza resilienza crescita e marginalità voi direte sì ma Alfredo qua stiamo parlando di progetto evoluzione per far entrare i giovani in azienda e io vi posso dire che i giovani in azienda se non c'è una struttura di questo genere la vanno a cercare in altri paesi dove queste modalità le utilizzano già da mo quindi quindi non stiamo parlando di attività olistiche in senso lato stiamo parlando di necessità per poter riuscire ad incamerare delle professionalità che oggi magari non saranno delle professionalità operative perché nel mondo di lavoro ci devi entrare ci devi sbattere il naso ma posso dire che i ragazzi che escono oggi dall'università hanno delle competenze che oggi alle aziende servono ma per potersi ritenere bisogna sapere bene come metterci nelle condizioni di poter mettere a frutto queste capacità e quindi è un po' come io dico sempre come avere Schumacher e poi mandarlo a fare la spesa insomma va bene lui ci va però insomma magari lo mandiamo in pista povero vecchio Schumacher detto questo voglio fare un annesso con un con un un mio tra virgolette collaboratore che lavora in un'azienda e lo dico la Bravo SPA con la quale stiamo facendo proprio questo percorso di consapevolezza e digitalizzazione che ha detto questa cosa io l'ho trovata bellissima e l'ho riportata che è una penna utile solo se so scrivere questo che cosa vuol dire che se io adotto un software o mi aiuta a fare queste cose o altrimenti mi serve a poco e allora alcuni di voi che magari hanno già fatto delle esperienze dicono sì ma Alfredo non esiste un software che possa arrivare al metodo codificato e questa è la bella notizia perché l'abbiamo fatto questo software si chiama Smartop è diventata un'azienda dopo cinque anni di sperimentazione è diventata un'azienda e si può dire che questo software è stato creato al 60% dagli imprenditori e dal loro staff e al 40% da noi è un prodotto totalmente made non in Italy in Brescia e su questo ne sono particolarmente orgoglioso e devo dire che questo è nato anche grazie alla collaborazione al supporto del CSMT e di tutti gli imprenditori che hanno detto dobbiamo spostarci da il non codificato al codificato con questo ho terminato e e quindi lascio la parola alla dottoressa Sansoni e vi ringrazio grazie Alfredo tanto che Giovanna Carica mi piace ricordare che insieme alle esperienze che ho fatto personalmente con Alfredo mi ha consentito anche di uscire un po' dalla sfera algoritmica ingegneristica e la visione che aveva lui della digitalizzazione dei processi non era solo il flow chart i passaggi le condizioni che fanno partire certi alert o certe mansioni ma era la digitalizzazione della relazione io questo fino prima di conoscere Alfredo non l'avevo mai pensato e questo è bello tanto che che adesso condividiamo un altro pdf mi faceva piacere condividerlo anche con voi Giovanna vediamo prego allora grazie di questo invito queste slide le ho costruite indipendentemente da quello che è stato detto in questi ultimi 40 minuti e vabbè mi ritrovo al 100% con quanto è stato già detto quindi spero di non tendiarvi eccessivamente ma di dare un contributo a mia volta allora io sono un docente una docente e mi occupo di stage e placement da poco tempo ma come carica ma in realtà mi appassiono a questi temi da sempre allora quando si parla di placement universitario almeno nella mia mente l'obiettivo lo legite qui quindi sono parole quindi costruire consolidare ampliare la connessione tra territorio e i giovani che per quanto riguarda l'istituzione che mi fa campare è l'università degli studi di Brescia se posso mettere un bit di informazioni in più per me far sporcare le mani è essenziale i ragazzi devono sporcarsi le mani possibilmente a tratti anche non dico rompersi il naso ma qualche bozzo non è che gli faccia poi così male questo perché lo dico perché la libertà di scegliere il proprio futuro dipende dalla conoscenza di cosa c'è là fuori e io ho una visione molto cioè trovo che i giovani siano molto affascinanti sia negli aspetti vitali che li contraddistinguono sia negli aspetti un po' così un po' più scialli perché non aver fame non fa bene e in alcuni casi quello che mi trovo a vedere è che non c'è una come dire una volontà precisa di scegliere il meglio ma questo dipende dal fatto che non c'è neanche l'idea della scelta e uno è libero di scegliere quando ne approvate un po' e le approvate perché ci ha approvato no? Il terzo punto è lavorare con enti aziende del territorio quindi come placement noi lavoriamo ovviamente con con il territorio non si tratta solo del matching tra la domanda e l'offerta che sono sempre parole un po' così vaghe si tratta di fare in modo che il livello di felicità e di soddisfazione dei nostri ragazzi aumenti almeno tanto quanto il livello di soddisfazione e di felicità di chi li fa lavorare il tutto ha ovviamente una ricaduta in termini informativi detto ciò andiamo alla realtà allora è già stato detto la dinamica che noi viviamo è una dinamica esponenziale e questa è una fotografia che io ho preso da un video quindi lasciate perdere la questione del rinascimento ma guardiamo questo grafico parla da sé cosa vuol dire? vuol dire che l'esponenziale è una roba che fa cadere tante cose in pochissimo tempo e è molto difficile sia per noi umani sia per la società e per le relazioni umane e per l'azienda che è un insieme di ricchezza di beni materiali immateriali cambiare la marcia questo è una questione neuronale che ci contraddistingue e ci permette anche di sopravvivere ma tant'è il meccanismo esponenziale c'è e quindi io cosa mi sento di dire non parlo in questa presentazione in modo troppo istituzionale perché allora vi avrei dato il link alle solite quattro balle che si leggono no? sui sul placement e che tutti siamo bravissimi a scrivere quello che mi permetto di dire ai giovani è che si sveglino adesso si vengono quelle bellissime pubblicità in dialetto bresciano mi piace tantissimo e come attività noi lavoriamo io lavoro molto per incuriosirli per metterli in situazioni di dubbio per capire che provarci fallire riprovarci è l'unica strada per imparare per sfatare i miti del ho fatto un sogno mi è venuta un'idea diventerò famoso e ricchissimo che purtroppo permea tantissimo ancora perché fa parte di un tessuto culturale che è nostro e educare l'intraprenditorialità che vuol dire cammina con le due gambe è chiaro che tutti noi adulti e maturozzi abbiamo fatto questa roba ma l'abbiamo potuta fare con mille difficoltà e fatiche ma in tempi molto 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 più fisiologici adesso questa roba non c'è più cioè la fisiologia ce la dimentichiamo perché c'è l'esponenzialità al sistema universitario io mi sento di dire svegliati desider il problema qual è che i meccanismi gli ingranaggi sono obsoleti e non capisco ma mi adeguo come diceva il collaboratore di Renzo Arbore cosa intendo dire intendo dire che 40 anni fa quando io ho fatto ingegneria ho fatto analisi 1 analisi 2 geometria che sono le stesse materie che vengono insegnate ora perché i piani di studio fondamentalmente non sono cambiati c'è qualcosa che non va perché nel frattempo sono passati 40 anni e dalle schede coi buchini con cui ho fatto il primo esame di programmazione adesso lo vediamo di che cosa stiamo parlando non è colpa colpa insomma ognuno poi ci mette del proprio ma o si espianta il meccanismo così come dire è come infilarsi in un corsetto no strattissimo per cui devi fare analisi 1 analisi 2 eccetera eccetera intanto il tempo passa le tecnologie cambiano tu tra tre anni uscirai avendo fatto analisi 1 analisi 2 di cui non ti ricorderai assolutamente nulla ma nel frattempo ci sarà la la cyber calculation di non so che diavolo no e non saprai utilizzare strumenti che sono essenziali adesso a livello eh aziendale eh in questo senso il mio la mia percezione è quello che mi impegno a fare è che eh lo stage perché il placement è una cosa lo stage è un'altra ma lo stage da una sinecura diventa un elemento essenziale nel percorso formativo avevo scritto altre cose qua sotto ma poi le ho tolte perché erano inutili cioè cosa vuol dire vuol dire che il docente quadratico medio eh vede nello stage un qualcosa di molto lontano di dai dimmi cosa devo firmare eh l'ho fatto anch'io lo confesso l'ho fatto anch'io ma poi mi sono resa conto che o fai provare ai ragazzi di che cosa stiamo parlando poi basta non serve basta 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 una roba fatta bene dall'inizio alla fine con gli stress dell'oddio adesso non so che pesci pigliare aiuto aiuto eccetera per eh come dire eh oliare gli ingranaggi no? quindi da una sinecura diventa un elemento essenziale nel percorso formativo e lo sta diventando perché gli stage finalmente da essere strutturalmente a scelta stanno sempre di più diventando obbligatori anche qua però l'università è una roba lenta ragazzi eh cioè ci vuole pazienza quello che mi sento di dire all'azienda è sveglia e fera perché cioè cosa vuol dire nuovi modelli di business è una parola grossa cioè modelli di business vogliono dire nuovi rapporti e questo è quello che diceva Rubagotti prima eh nuovi rapporti eh delle aziende con i giovani a maggior ragione perché i giovani sono eh le risorse che noi abbiamo a disposizione dare a Cesare quel che è di Cesare deve essere finito il tempo in cui qui so perché mi è capitato per esperienza che io veda degli studenti che si laureano con me vanno a lavorare in azienda gli promettono eh corsi di formazione eccetera eccetera e poi mi torno nel laboratorio disperati e mi dicono mi trovi da fare un assegno di ricerca non ne posso più investire in strategie e la strategia lo stratega era una persona comunque quindi le strategie sono fatte dalle persone e quindi alla fine investire in strategie vuol dire investire nelle persone chiaramente io nella posizione che ricopro per me le persone sono i giovani di cui mi occupo devo anche dire che la il dipinto della della aziendale fatto precedentemente me lo sono scritto qua come in università io non so che tu sai che io so mi so niente non mi ha detto fai briga con un dispendio di energia un dispendio di tempo pazzesco quindi eh Alfredo se il suo software pensa che possa funzionare anche in università eh non mi non mi dispiacerebbe ehm cosa stiamo facendo allora il placement ehm adesso un po' di effetti speciali non guastano insomma ma eh qui vedete il mondo universitario deve andare di pari passo con il mondo del lavoro almeno poniamocelo come come obiettivo cosa stiamo cercando di fare di cose noi ne facciamo ne facciamo tante eh con i ragazzi eh adesso forse avrete sentito parlare del contamination lab quello è stata un'esperienza incredibile che secondo me ha cambiato la vita sicuramente a me ma anche a molti dei ragazzi che ci hanno lavorato proprio in termini di intraprenditorialità e le attività in progress sono quelle che vedete qui questi sono post di facebook eh in cui eh ai ragazzi non necessariamente solo ingegneri ma anche economisti giuristi eh si dice crm è un software o è una strategia è una strategia perché è necessaria questa strategia perché se no non fai business e non campi e così via linkedin la smettiamo di gigionare con instagram e facebook e cominciamo a sapere utilizzare linkedin come strumento di lavoro o no eh e così via al di là di di appunto di e poi si cerca di portare la vita cioè io che sono un docente parlo con le persone con gli studenti con le persone del mondo del mondo produttivo questo perché perché mi piace che eh che si capisca che la mia università sta cercando di fare quello che si può al di là del career day che peraltro ha una bella risposta a questi sono gli afflussi degli espositori fino al 2018 non ho ancora avuto il tempo materiale per plottare il 2020 eh al di là come vi ho detto del contamination lab e su cui non ritorno eh parliamo del lavoro nella bottega digitale questo è il rinascimento esponenziale con le sue botteghe è un progetto che secondo me si avvicina molto a rispondere alle e su cui io non non ho nessuna selettività cioè non c'è nessun monopolio ma tanto per dirvi quanto siamo già in sintonia cioè parliamo di eh persone che vengono dall'esterno che fanno dei webinar eh con dei webinar che vengono eh poi eh redatti in questo caso mi sono inventata io redattrice e videomaker devo dire con discreti risultati eh andando incontro con gli episodi invece dell'episodio di The Crown eh mettiamo in CRM affinché i ragazzi possano attingere questo perché perché mh per come la vedo io eh le aziende avranno le aziende i servizi il mondo avrà sempre più bisogno di persone consapevoli che anche se tu sei eh un giurista puoi tranquillamente imparare un sistema CRM e capire come questo si inserisce nella relazione con il cliente se sei un ingegnere come sono io elettronico eh non è necessario aver fatto l'ingegneria informatica anche perché noi ne scorniamo pochi all'anno e hanno lavoro molto prima eh è importante che ti renda conto che se ben seguito puoi hai davanti a te la vita cioè hai davanti a te mille opportunità e allora cosa vuol dire questo? vuol dire che saper scegliere è importante ehm per essere liberi di scegliere eh per i ragazzi è la chiave di volta ed è il mio obiettivo e quindi se lo possiamo fare insieme a con altre aziende altre realtà che eh condividono questo lasciatemi dire questa finalità etica io sono sempre stata un po' nazia con i miei studenti ma questa finalità etica secondo me stiamo facendo già imprenditoria sostenibile grazie ecco grazie Giovanna penso che le tue parole siano condivisibili al massimo livello infatti eh direi non per eh ribadire un messaggio ma lo penso veramente quale terreno migliore per mettersi alla prova e mettere alla prova dai due punti di vista di un progetto nuovo fare un progetto che che tutti sanno già fare va bene va benissimo però fare una cosa che ha un certo rischio di fallibilità anche perché poi va proposta anzi non poi nel mentre che si sviluppa il progetto va proposta alle persone va venduta convince le persone io ho parlato ho citato algoritmi di queste cose che mi piacciono mi appassionano ma l'algoritmo che convince le persone io non l'ho ancora visto da nessuna parte è ancora un'arte è ancora qualcosa appunto di afferente e sarà così anche dopo alle soft skills e specificamente quando andiamo a parlare di processi anziché di macchinari una macchina che fa cadere i pezzi nel cassone un carrellista che sposta un pallet col muletto eccetera lo vediamo possiamo anche filmarlo qualche volta lo facciamo dietro con senso come si fa nel calcio così insieme a lui andiamo a rileggere dove si può migliorare ma se entriamo in un ufficio vediamo la gente che qualcuno mi ha già sentito dire tante volte che è un po' miurto il metto neanche questo vedi l'azione della persona che digita la tastiera sulla tastiera o risponde al telefono quindi non hai la percezione del flusso per questo che lì il digitale ha molto più da dare come valore e infatti lo diceva prima Alfredo abbiamo margine di miglioramento del tempo che si attestano in media intorno al 20 o il 30% che su 8 ore di lavoro vuol dire qualcosa vuol dire anche lavorare più riposati anche concentrarsi meglio nelle ore principali essere più rilassati essere più focalizzati quindi anche in attività che non vado a digitalizzare perché non vanno digitalizzate come sono quelle creative di un progettista o anche quelle operative devo appunto spostare il pallet cosa c'è di creativo se non lo sposto la macchina si ferma mi salvano attenzione quindi queste che non vado a digitalizzare le faccio meglio perché ho più attenzione ho più risorse e questo vedo che comincia a permeare come messaggio nelle aziende beh Andrea mi permetto di dire che è incredibile com'è se la vogliamo mettere alla Bert Ellinger i sincronismi cioè la dottoressa Sansoni ha parlato della bottega e quando si sente parlare di bottega per me l'unica bottega è quella del perrocchio dove è lì che è nata l'imprenditoria cioè e quindi io tre settimane fa ho fatto questo questo intervento su TeleTutto ho parlato esattamente di questo ecco cioè allora detto questo come si dice mi sento istasiato perché posso testimoniare che non ci siamo messi d'accordo no davvero è incredibile cioè ci manca la nostra amica Carrà che bellissimo bellissimo però grazie 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 domande esatto in chat mi pare non si è arrivato niente ma intanto che qualcuno mi auguro rompa il ghiaccio che è sempre il solito problema anche qua di problema magari anche in audio oppure se qualcuno vuole intervenire ovviamente prende la parola può accendere la webcam e fare il suo intervento è vero che siamo fuori tempo massimo ma se interessa andiamo pure avanti infatti intanto io vi ricordo andate qualcuno l'avrà già visto in chat c'è un questionario di valutazione a link ci si impiega un minuto e mezzo così hanno interesse al vostro parere anche i vostri suggerimenti e magari a qualcuno visto che lo sappiamo noi ma così lo rendo pubblico questa cosa noi oggi abbiamo collegati sia imprenditori sia alcuni giovani che sono interessati appunto a questo nuovo progetto di innovazione per cui ciascuno con la propria titolarità può farsi diciamo farsi avanti dire mi interessa entrare in questo club mi sono appena laureato oppure sto per farlo così già che devo fare uno stage mi ci laureo mi ci faccio una tesi sopra lasciatemi dire anche a me un po' la bresciana così ho fatto anche la memì eppure sono un imprenditore ho in mente di fare questo progetto di innovazione digitale o anche non digitale ho già messo a fuoco gli obiettivi so che mi serve una persona altrimenti il progetto non riesco a farlo usate pure il csmt che è creato apposta per facilitare appunto questo contatto poi ne parliamo a parte che diventeremo un po' un tormentone ormai perché io adesso stalkerò subito la dottoressa Sansoni dopo quello che ha detto perché ci sono un sacco di cose veramente da cioè avremo modo di lo diciamo adesso ci auguriamo di tornare in presenza ma intanto che non lo siamo va benissimo anche la sede l'incontro virtuale noi faremo degli incontri due o tre incontri all'anno li vogliamo rendere periodici in armonia con le disponibilità di tutti dove avendo appreso le necessità di progetti degli imprenditori che ci commissionano o che iniziano a parlare di progetti di innovazione andarli a presentare frontalmente ai ragazzi mi auguro di avere il problema di avere troppi candidati che è un bel problema così avremo modo di innescare ancora più progetti per dare soddisfazione a tutti ne parlavamo proprio ieri per esempio per quanto mi riguarda ci sono già tre aziende che hanno già dei progetti strutturati con degli obiettivi molto chiari e che dicono bene quando è che incontriamo quando è che ci incontriamo per parlarne bene adesso mettiamo insieme le ultime cose poi dopo inizieremo quindi bene ci sono domande nessuno mando un sm mando un whatsapp alla mia ragazza che magari comunque ho visto che sono rimasti collegati a tutti in realtà quindi la maggior parte ci sono domande di solito mi dicevano sono in le condizioni mi ricordo l'ultima telefonata che avevo fatto con De Bortoli che diceva guarda che quando fai un'attività e non ci sono risposte o si sono addormentati o hanno mollato per non fare brutta figura e abbandonare ma ce n'è una positiva sì che facciano domande ok non c'è la possibilità che sia stato chiaro comunque vi manderemo una mail con i nostri ringraziamenti con un link da dove potete scaricare le nostre presentazioni le caricheremo sul sito e quindi poi avremo modo di mi auguro sentirci nei prossimi giorni settimane per magari approfondire qualche progetto assieme quindi direi che se non ci sono domande non è inutile che continuiamo a chiedere a fare la domanda se ci sono domande io ringrazio tutti i nostri se fatti una domanda datti una risposta no evidentemente ce la diamo quindi ringrazio il nostro presidente Riccardo Tricchilo il dottor Marco Limbretti il direttore di Nexab la professoressa Giovanna Sansoni il delegato al placement del nostro reattore Alfredo Rabaiotti fondatore di Smartop e tutti voi che ci avete seguito in questo webinar stasera quindi a risentirci prossimamente grazie grazie arrivederci Alfredo me lo farai